I carabinieri di Padova hanno smantellato un trio di spacciatori, due nigeriani e un marocchino, attivissimi sul territorio. Sono centinaia le cessioni documentate nell'indagine iniziata a settembre 2014. Questa indagine ha consentito di disarticolare questo sodalizio che era finalizzato allo spaccio al minuto di cocaina. La cocaina che veniva spacciata sia nei quartieri di Chiesa Nuova e Brusegana ma soprattutto nei comuni di Selvazzano, Mestrino e Rubano. L'operazione condotta dai militari della compagnia di Padova e coordinata dal procuratore Sergio Dini ha portato in carcere i tre soggetti, due uomini e una donna. Dagli accertamenti è emerso che la maggior parte delle vendite avveniva nei comuni di Rubano, Mestrino, Selvazzano e nei quartieri padovani di Chiesa Nuova e Brusegana. L'attività di spaccio prevalentemente veniva all'esterno di bar della zona ma abbiamo appurato anche che spacciavano per strada. Il trio riusciva a piazzare quantitativi di cocaina di vario peso tra 1 e 4 grammi a numerosi tossicodipendenti residenti nelle province di Padova, Venezia e Belluno, portando ad un quantitativo totale molto elevato. I due uomini sono stati associati alla casa circondariale di Padova mentre la donna è stata portata in quella di Verona.